bianco è l'odore del tempo che va Riccardo Angelo Strano chissà cosa lo avrà spinto a scrivere poesia ci si domanda in seconda di copertina che cosa mi ha spinto a scrivere poesia? beh, diciamo che non ho realizzato di essere stato spinto da qualcosa finché non ho avuto l'esigenza di definire nel pratico il progetto editoriale come prodotto da presentare al di fuori di me, al mondo, all'altro sia il progetto nella sua interezza, per come lo si vede e come si legge sia la consapevolezza che adesso, sinora ne ho, è nato a posteriori chiarificando a me stesso le diverse esigenze inconsce che mi hanno spinto dal 2017 all'inizio del 2023 a raccogliere questa cinquantina di scritti, poco più il primo scritto l'ho composto ad Aquisgrana nel 2017 mentre mi trovavo lì in Germania per due mesi e mezzo per cantare un'opera e l'ultimo scritto invece è venuto alla luce quando l'editrice all'inizio del 2023 mi chiese di dare una degna chiusura a quello che le sembrava davvero un percorso interno per sopravvivere e riaffermarsi all'esterno confessione, catarsi, esorcismo sono alcune delle definizioni che ho ricevuto dai lettori e mi sono accorto che in realtà sono tutte corrette però nessuna è esaustiva singolarmente dentro questo libro sono presenti, senza che l'avessi preventivato tutte le tappe della mia crescita interiore sino ad oggi e forse il motivo principale che mi ha spinto a scrivere prima ancora che esso si rivelasse a me è stata l'esigenza di dire la mia su di me al mondo dal quale mi sono sempre sentito parzialmente interpretato a causa dell'immagine della persona, direbbe Jung che ho sempre voluto presentare come maschera bonificante verso ciò che volevo non si vedesse di me adesso è proprio cambiato il presupposto del come voler stare a questo mondo cioè con una maschera da usare come strumento sociale e non più come schermo personale chi mi farà l'onore di leggermi potrà decifrarmi in toto dopo gli avvenimenti personali e sociali di questi ultimi anni ho scelto veramente di fare aderire più coerentemente ciò che sono a ciò che di me voglio far vedere per amare meglio per cantare meglio e per vivere alla luce del sole ma nei confronti di me stesso